eccomi 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 buonasera amici e amiche rosso neri ragazzone ragazzone bene buona serata questo venerdì 16 agosto 2024 che ora sono le 19 11 7 11 della sera e buon sabato 17 agosto 2024 allora ragazzi un'informazione di servizi io da settimana prossima da lunedì vi dico la verità se mi vedete bene se non mi vedete amen vabbè adesso sto scherzando farò dei video molto più corti di quello che sto facendo adesso di quello che ho fatto fino ad ora se ci saranno delle notizie interessanti se ci saranno visto che fonseca che ha detto mercato è chiuso dopo fofana se ci saranno le notizie interessanti ci sentiremo massimo per cinque minuti e comunque partire dal 23 agosto io sarò in vacanza poi dopo io ci rivedremo ufficialmente in questa sede tutta rinnovata perché il lavoro io dovrò finire prima di partire praticamente dal primo settembre per cui da settimana prossima dal 20 fino al 23 molto probabilmente se ci saranno notizie interessanti per cinque minuti se non ci saranno non ci vediamo ragazzi sono in alto mare qualche lavori le cose saranno andando avanti per le lunghe ma comunque sì ce la farò penso che ce la farò sicuramente allora vi abbraccio a tutti come al solito quei pochi diffidenti di tifosi milanisti scrivono sempre a volte delle cose che non riesco a comprendere come il fattore che adesso non sono neanche contenti alcuni milanisti alcuni di voi scriveranno infiltrati alcuni di voi diranno che non sono milanisti ma secondo me invece sono milanisti che non sono contenti di quanti soldi ha tirato fuori il milan per fofana allora voi milanisti rompicoglioni diffidenti dico andate a quel paese ma avete veramente stofato sono veramente pochi la maggior parte di quelli che vedono il mio video sono invece milanisti fiduciosi abbiamo una buona speranza di avere una ottima squadra sul discorso allenatore ragazzi non ripetiamoci allenatore è fonseca ha fatto una buona preparazione di campionato questo gli va dato atto e con pioli non sarebbe stato così per cui abbiamo già iniziato bene da qui a dire che un grande allenatore aspettiamo attendiamo se dovesse essere uno veramente bravo io sarò il primo a fargli dei complimenti della madonna questa è quanto bisogna essere onesti nella vita chi è disonesto chi non è obiettivo è un povero sfigato questo va detto allora ragazzi i protagonisti di questo video sono ovviamente fofana e poi balloture avrei dovuto mettere anche calulu ma adesso ne parliamo perché il nostro pier si trova benissimo a milanello e quanto pare ha un po di difficoltà ad andarsene morale della favola è venuto a sapere sabato praticamente l'altro ieri che pier non è convinto dalla juve e da motta insomma dal loro progetto di andare appunto alla juventus entro questa domenica a proposito anche qui informazioni di servizio noi ci vediamo domani per il video reaction cioè per video reazione dopo la partita di milan torino che sarà visibile su sky alle ore 20 45 per cui cosa vuol dire caricherò il video entro le 23 30 massimo mezzanotte ci vedremo domani per il video reaction come al solito come ogni partita dopo partita l'unica partita che non farò il video reaction dopo subito dopo sarà quella del milan contro il parma di sabato prossimo lo farò il giorno dopo cioè il 25 del posto che sono in vacanza questo lo devo dire allora ragazzi per cui caluno non è convinto da juventus udite udite si sta inserendo l'atalanta per cassi è furbo per cassi è capito che se prende i giocatori del milan come ha fatto con prescianini che grazie ci vengono in tasca praticamente circa 7 milioni di euro per cassi è capito che se prende il giocatore del milan lui va alla grande furbo questo è più furbo di tanti altri questo poco mi assicuro e un'altra notizia che vi do vi riconfermo che antonio conte è incazzatissimo col napoli per quello che sta quella che la gestione del calciomercato è incazzatissimo ragazzi è furioso questo qua dura un anno contro lo dico io al napoli va bene ritornando a noi il discorso che sta salendo l'atalanta perché vuole capire se ci sono margini per un investimento qui la mia scaletta intanto si viene a sapere anche che la dirigenza del milan praticamente vuole proprio spedire calulo perché il discorso è questo ragazzi dobbiamo accorciare la rosa detto anche fonseca adesso vi leggo la cosa più importante che ha detto fonseca la rosa va accorciata se ci sono troppi giocatori non è per antipatia nei confronti dei giocatori ci sono già stati dei confronti con i giocatori morale della favola hanno detto la verità in faccia ai giocatori e così che deve essere vanno dette le cose in faccia a un ragazzo senza girarci intorno e niente morale della favola il milan insomma ha spiegato a pierre che molto probabilmente meglio per lui andare alla juventus insomma questo è quanto però ragazzi il nostro buon ex gazidis ci ha fatto il miracolo grande gazidis accordo fatto con saint etienne gestito da ivan gazidis per balloture a un milione di euro al milan e va grande gazidis allora e poi un'altra notizia nasti affermato per la cremonese le uscite in primis che vanno fuori dal milan praticamente potrebbero andare fuori dal milan sono adele benasser per accorciare la rosa e leggiamo le parole di fonseca e il discorso fofana allora ragazzi fonseca fosse che oggi ha detto ha fatto un'intervista allora io ve lo dico a oltre al precampionato che ha fatto molto bene con fonseca tutto lo staff di preparatori atletici tutto quanto completamente rinnovato secondo me è partito bene in un certo senso mi piace la sua trasparenza non è uno che ci gira intorno e anche in questo senso scusate il gioco di parole a secondo me ha studiato la precedente panchina di pioli di come lui gestiva pioli le cose che era un po una specie di pioli frate francescano della serie volemossi tutti bene tutto a posto tutto a posto quando poi a posto non era girandoci intorno fonseca ha studiato questo ve lo dico io questo non mi ha detto nessuno l'ho capito io fonseca va dritto al punto va dritto al punto e su questo fonseca secondo me è stato ottimista vi voglio ricordare che degli allenamenti del milan nessuno sa più niente perché sono stati tirati su dei teloni della madonna alti praticamente cinque metri a milanello nessuno sa più niente nessuno fa più foto e fotine e video cioè che sia chiaro degli allenamenti del milan non sa più niente nessuno adesso poi da quello che ho saputo stanno facendo anche i lavori al cancello principale a milanello per innalzarlo renderlo praticamente tutto un muro scuro nero che sia chiaro no perché forse qualcuno di voi non ha ancora capito perché non si sente parlare gli allenamenti del milan perché nessuno sa più niente nessuno li vede più questo è giusto questo è giusto e fonseca dice questo a proposito di questo è il gruppo più forte che ho allenato è presto per dirlo ma è un gruppo molto forte con ambizione poi dice siamo qui per lottare per lo scudetto ogni giorno che lavoro i miei ragazzi con i miei ragazzi ho più fiducia in questo questo gruppo è qui per lottare lo scudetto e vi dico che dopo fofana il mercato è chiuso ragazzi se questa cosa è vera che il mercato è chiuso non si sa io di sicuro vi ho dato una notizia tempo fa del famoso discorso di un attaccante under 25 che dovrebbe arrivare vedremo se sarà così perché un attaccante in più secondo me servirebbe avevo saputo che si voleva giocare anche si voleva provare a giocare a due attaccanti vedremo se si verificherà questa cosa da qui al 30 agosto tante cose possono succedere potrebbe essere un arrivo di occasione lasciate stare broia che poi tra altre cose grazie a dio c'è fulham in premier league che vuole broia grazie a dio però ragazzi questo è quanto è che sia chiaro poi sul discorso fofana ragazzi grande grande qui voglio fare sempre una piccola precisazione non è per fare il padre putativo il bagastiano contrari quello che vuole fare il bacchettone piuttosto che sbatto le palle di queste cose qua ci sono dei milanisti e se sono milanisti sì sono milanisti secondo me non è vero che sono infiltrati interisti sono milanisti il problema che tu che pensi che questi non siano milanisti devi capire che c'è gente che si alza la mattina semplicemente per una cosa rompere i coglioni è chiaro qual è il concetto se tu non hai capito questo naturalità anche questo non c'è capito niente per cui questi sono milanisti che ho letto dei commenti sotto in video a vi i miei video in media sono visualizzati da 3.000 persone ogni visualizzazione è unica perché l'algoritmo di google di youtube visualizza una volta sola anche se tu vedi il video 5 10 volte è unica fate il conto che in media su 3.000 visualizzazioni commentano una media 25 30 40 persone allora il discorso è ovvio che nessuno di noi può essere sempre d'accordo però tutti d'accordo però non si possono scrivere certe cose io ultimamente nello scorso video prima di ferragosto spero che poi abbiate passato bene ferragosto ho letto delle robe orribilanti della serie che non sono gente che non è contenta che fofana viene pagato 25 milioni di euro no ma ragazzi c'è veramente qui qui avete dei problemi mentali e io ve lo dico perché cioè non si può non essere poi io ironicamente per appunto per sbeffeggiare questi milanisti rompicoglioni ho scritto dovete ringraziare comunque cardinale nel mio post in community andato a leggere perché comunque un minimo di grazia questo qua c'è bisogno a darlo ha comprato un giocatore che tra nove mesi e qualcosa era zero cioè poi si lamentano questo è forte essendo un giocatore forte si lamentano che arriva 25 si sarebbero lamentati se non fosse arrivato cioè veramente allora basta pensare che questi sono degli infiltrati questi sono dei puri semplici milanisti persone normali che però nascono con uno scopo la mattina romperi i coglioni io so come vanno le cose nella vita conosciuto tante persone lo vedo in famiglia è una caratteristica caratteriale di una persona ci sono quelle persone che alla mattina appena si svegliano io ad esempio non sono una di queste rompo i coglioni per altre cose io quando mi sveglio la mattina non rompo i coglioni io la mattina sto zitto faccio colazione e parto e vado ci sono invece persone quando tu la mattina ti svegli quella persona alla mattina rompe solo i coglioni si lamenta subito appena mette i piedi giù dal letto basta questi sono quei milanisti li adesso alcuni non sono contenti perché fofana non arriva bene sapete cosa vi dico cazzi vostri punto in arrivo a milano fofana tra poco sarebbe dovuto già arrivare adesso a milano 19 22 quando è ancora arrivato per la maglia numero 29 3 milioni di euro netti all'anno forza mila sempre comunque ovunque ciao